presentiamo le atlete della prima serie in corsia numero uno e criteria di quest'anno per l'anno duemila e uno la medaglia d'oro nei cinquanta rana Matilde Cerchier piave nuoto in due Martina Franceschini centrosportivo Hoff in tre serie in amometto Rosà in quarta corsia la ritroviamo finalista gli assoluti invernali in questa gara Elisa Taglioretti gesti sport al suo fianco in corsia numero cinque per l'anno duemila campionessa italiana giovanile allo stale nuoto di Riccione Alice Quargentan gesti sport in sei Rita Soldati sport e fitness in sette Giulia Pegorino Antares nuoto in otto Sara De Mattei nuotatori Trentini io ricordo che il record della manifestazione è di Lisa Fisneider uno dieci e sessantaquattro ultime bracciate della seconda serie femminile dei cento rana se la giudica in corsia numero quattro busse Haledmar uno quindici e quarantanove il suo tempo alla partenza la prima serie già presentata